Questo è l'imprendipromotore, quando il consulente finanziario diventa imprenditore. Perché la consulenza finanziaria, nonostante sia sempre stata portatrice di novità, vede i propri attori principali, i consulenti finanziari, essere avversi al cambiamento. Perché un consulente imprenditore deve andare incontro alle novità, ai cambiamenti con fiducia? Cosa determina questa avversione al cambiamento? Scopri le strategie più efficaci per poter migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario. Questo è l'imprendipromotore, con Enrico Florentino. Ciao e grazie per aver deciso quest'oggi di stare in mia compagnia, ascoltando la puntata numero 24 dell'imprendipromotore podcast. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Prima di cominciare questo episodio, però, prenditi un momento per iscriverti a questo podcast e se ti va, lascia una recensione. La puntata di quest'oggi è offerta dalla Imprendipromotore Academy, la prima academy italiana dedicata interamente allo sviluppo dell'imprenditorialità dei consulenti finanziari. Se vuoi far crescere la tua impresa di consulenza finanziaria, la Imprendipromotore Academy sarà in grado di fornirti tutti i supporti per far crescere il tuo business. Per info e per iscriverti alla lista d'attesa, digita www.imprendipromotore.it In questa serie di puntate dell'imprendipromotore podcast mi sono interrogato su quali possano essere le principali sfide che il consulente finanziario è chiamato ad affrontare. Ne è uscita una serie di sei puntate dove ho avuto modo di individuare, di isolare, di analizzare, cercando sempre di dare poi delle soluzioni, ciò che in questo momento potrebbe rallentare la crescita della professione. Uno dei fattori che più di ogni altro incide sulla mancata crescita del settore è, a mio modo di vedere, l'avversione che gli attori principali di questo settore, nello specifico i consulenti finanziari, hanno rispetto ai temi del cambiamento. È paradossale come il consulente finanziario, nonostante egli stesso si trovi ad essere un grande interprete e portatore di novità presso la clientela, presso il mercato, però dimostri una certa visione conservatrice per ciò che concerne se stesso e la propria professione e si trova ad opporre una grande resistenza al cambiamento. Bene, nella puntata di quest'oggi dell'imprendipromotore podcast cercherò proprio di analizzare questa sfida e soprattutto cercherò di darti degli spunti su come superarla e vincerla. Allora, parto da una massima del grande poeta tedesco Friedrich Schiller che scriveva Ogni novità anche la felicità spaventa e devo dirti che spesso mi capita di incontrare consulenti finanziari che mi confidano che nonostante siano felici la felicità spaventa perché una volta che si è raggiunta si ha anche molto timore di perderla. È la stessa felicità o la stessa desiderio di raggiungere i risultati che però dopo alla fine ci intimorisce perché una delle cose che più mi colpiscono, ad esempio, è che difficilmente ho trovato consulenti finanziari che hanno pianificato con estrema attenzione anche quello che è il percorso futuro della loro attività professionale andando a farsi, per esempio, un piano di business, un business plan, un piano di marketing andando a scriversi degli obiettivi ma soprattutto andando a cercare di capire come poterli raggiungere sì perché nel momento in cui io decido di scrivere, mettere in nero su bianco anche gli obiettivi o le cose che intendo raggiungere è implicito che vada ad assumermi una grande responsabilità nei confronti di me stesso e della impresa di consulenza finanziaria. Questo presuppone che cosa? Il fatto che necessariamente dobbiamo, per poter raggiungere gli obiettivi dobbiamo ovviamente cimentarci con quelle che sono anche le naturali resistenze i naturali ostacoli che sulla strada dell'imprenditore si frappongono in maniera importante e continuativa tra la situazione attuale e la situazione futura. E devo dirti che mai come in questo momento il contesto in cui viviamo è portatore di novità continue e di cambiamenti anche continui che capisco possano incutere anche del timore specialmente poi se le situazioni in cui ci troviamo ad affrontare sono situazioni nuove, nuove per noi nuove magari per le competenze che sinora abbiamo acquisito nuove per l'esperienza che sinora abbiamo fatto e che ci porta però a credere di non avere sufficienti risorse per poter poi affrontare il futuro. Sicuramente poi c'è una componente da parte di molti consulenti ovviamente le mie sono considerazioni generali sia ben chiaro, poi ciascuno farà il proprio bilancio e le proprie considerazioni sul suo stato personale sullo stato di salute della propria impresa di consulenza finanziaria ma molti sento dire che vanno pensando ma speravo finalmente di essere arrivato di aver raggiunto quell'equilibrio tra vita professionale e vita personale quel equilibrio anche in termini di redditualità che oggi nel momento in cui stanno arrivando sfide molto importanti come la MIFI 2 eccetera subito cominciano a sentire tremare sotto i piedi il terreno ogni minaccia che può arrivare ogni sfida che poi viene interpretata come minaccia che può arrivare al futuro penso al FinTech due anni fa non c'era giorno che non arrivasse un articolo da parte delle principali testate del settore che parlava di RoboAdvisor RoboAdvisor che avrebbe minacciato per esempio il futuro della professione eccetera il tema dell'intelligenza artificiale e quindi il fatto che un giorno un computer potrà sostituire l'uomo non credo ma anche questa veniva palesata come sfida e poi ultimo ma non ultimo il tema della MIFI 2 che in realtà poi di queste tre minacce e opportunità è quella più concreta visto che in questi giorni arriverà il famoso strato conto verità devo dire che su queste cose qui il mondo della consulenza si sta ovviamente interrogando su come affrontare questi temi ma soprattutto come superarli e superarli da vincenti allora un trend che è in dubbio sta investendo tutti i settori a livello mondiale è sicuramente quello della demolizione letterale delle rendite di posizione mi riferisco in particolar modo a quei settori che sono ipernormati pertanto molto difficili da penetrare per una persona esterna nel senso che provate a pensare le difficoltà che potrebbe avere un qualsiasi soggetto nel esercitare la professione di consulente finanziario se non è iscritto all'albo se non ha superato l'esame eccetera quindi c'è una barriera una soglia all'ingresso molto importante ma questo vale per tantissimi altri settori nonostante ciò tutto ciò tutti quelli che sono i settori che sono ipernormati di fatto e che garantiscono non hanno garantito fino a poco tempo fa una sorta di rendita di posizione oggi sono in grandissima fibrillazione si pensi per esempio al settore dei taxi il fatto che Uber abbia sparigliato letteralmente le carte sul tavolo e quindi abbia messo in fortissima discussione il settore del taxi la dice lunga su quanto quest'ultimo settore appunto quello del trasporto di persone pubblico fosse ipernormato perché non è che oggi io decido di fare il tassista mi metto in giro con la mia auto e posso tirar su persone a destra manca facendomi pagare sarei assolutamente fuori legge e questo ha permesso ai tassisti chiaramente di poter godere di una rendita di posizione importante e Uber è arrivato poi alla fine a sparigliare le carte tanto è vero che la definizione che viene data di Uber che è la più grande compagnia di taxi al mondo senza possedere neanche un taxi pensiamo al settore dell'hotellerie tutti gli hotel oggi vivono una pressione fortissima da parte di realtà come Airbnb che stanno mettendo in forte discussione anche il concetto di albergo come l'abbiamo sempre visto e vissuto e dove dall'altra parte però fare impresa alberghiera presuppone una serie di vincoli e di rispetto di alcune normative che diversamente un Airbnb non ha ma pensiamo ad esempio a tutto ancora attorno al tema del settore dei trasporti a tutte quelle dinamiche che possono essere rappresentate ad esempio da quelle app che permettono di poter ottenere dei passaggi da terzi nel momento in cui abbiamo bisogno di spostarci da Padova a Milano bla bla car ecco bla bla car per esempio anche questa una app è comunque una realtà virtuale che mettendo in relazione domanda e offerta in questo caso di passaggi automobilistici mette in forte crisi anche quelli che sono vettori tradizionali come potrebbe essere il treno oppure anche il trasporto pubblico su gomma e proprio perché chiaramente in questo caso è vero che c'è ipernormazione in questi settori è vero che hanno goduto di una rendita di posizione è vero anche che di solito nel settore ipernormato c'è molta difficoltà a reagire a quelle che sono gli elementi di novità e siamo in presenza di fatto di quella che amo definire la cosiddetta disruption cioè questa distruzione creativa questo arrivo di app piuttosto che di servizi che grazie alla tecnologia erano impensabili fino a pochi anni fa e che oggi sono diventati non solo realtà ma stanno mettendo in fortissima discussione anche proprio tanti settori che tradizionalmente sono cresciuti nel tempo hanno prosperato e che oggi proprio perché molto grandi e molto pesanti e poco inclini al cambiamento oggi vivono una pressione non da poco la disruption se dovessi dare una immagine con le parole è un poco come se tu ti trovassi in un condominio al primo piano che sta andando a fuoco quindi non hai la possibilità di scendere al piano terra e di scappare sei costretto a salire al secondo piano quindi devi percorrere una lampa di scale una lampa di scale dove mancano per esempio tre gradini tre gradini centrali non c'è il parapetto quindi tu sei costretto comunque ad avanzare a salire ma sei costretto anche a prenderti qualche bel rischio nel fare questo salto che potrebbe farti cadere anche nel vuoto ecco di queste cose della disruption ovviamente il settore bancario non è immune c'è un bel libro edito dalla terza ti suggerisco di leggere si chiama Digital Banks di Chris Skinner che racconta di quale sarà il modello di banca del futuro e senz'altro il modello di banca di come noi l'abbiamo conosciuto di come si è sviluppato nei secoli ovvero il custodire il denaro in eccesso di chi ne ha per poterlo prestare ovviamente a chi ne ha bisogno oggi quel modello di business sta mostrando decisamente la corda lo dimostrano la marginalità che si è ridotta quasi allo zero per le banche nell'attività di raccolta del denaro e di lending e di prestiti lo dimostrano anche i tanti esuberi per esempio che stanno arrivando lo dimostrano anche il fatto che la tecnologia nel frattempo ci sta consentendo grazie allo smartphone di essere collegati 24-7 con la banca non c'è più bisogno fisicamente di andare allo sportello ma nel libro Digital Banks di Chris Skinner l'autore appunto racconta di come potrà essere la banca del futuro dove la vera ricchezza non sarà rappresentata dal denaro ma sarà rappresentata proprio dai dati dai cosiddetti big data perché se tu ci pensi una banca è a perfetta conoscenza delle tue abitudini sai esattamente a che ora spendi i soldi dove li spendi perché ovviamente la tracciabilità dei pagamenti attraverso le carte di credito il bancomat e la debito automatico delle bollette insomma può tranquillamente delineare quelle che sono le abitudini dei clienti ebbene queste abitudini sono di fatto si trasformano per la banca in informazioni informazioni che poi un giorno saranno oro perché potranno essere cedute a terzi nello specifico a altre app che possono a quel punto si svolgere l'attività bancaria pur non essendo delle banche e dove i clienti pagheranno loro delle fee alle app che poi provvederanno a stornare parte di queste fee direttamente alla banca quindi il modello di fatto delle banche del futuro è esattamente il modello di business che oggi è tipico del consulente finanziario se ci rifletti tu di fatto sei un gestore di relazioni la tua ricchezza principale è la relazione i tuoi dati sono il conoscere più o meno approfonditamente i clienti ed il fatto che tu poi indirizzi il denaro in questo caso dei clienti a delle app esterne che sono le case prodotto che sono le fabbriche che ti consentono poi di dare gambe e di dare concretezza alle soluzioni che propone i tuoi clienti ebbene già tu stai interpretando forse magari anche inconsapevolmente quello che è invece il modello a cui le banche nel futuro dovranno tendere per poter sopravvivere e questo è un grandissimo vantaggio competitivo perché più avrai la capacità di conoscere il cliente e di andare in profondità in merito alla relazione con lui e quindi di diventare un vero e proprio partner più di fatto ti troverai in una situazione veramente di grande di grande vantaggio mi ha molto colpito una ricerca fatta nel 2014 da IBM dove chiese ai propri clienti come percepivano i commerciali che con i quali erano in relazione e la cosa interessante è che l'80% dei clienti rispose che il commerciale veniva percepito come il product pusher cioè uno spacciatore di prodotti solamente il 15% percepiva il commerciale come un solutore di problemi un problem solver e una minima parte cioè un 5% lo considerava invece un cosiddetto consulente fiduciario un trusted advisor ebbene io credo che il mondo della consulenza finanziaria sia già sulla buona strada per essere percepito come un solutore di problemi lo dimostra per esempio il successo che iniziative quali il patrimonialista del mio amico avvocato Massimo Perini con il quale peraltro stiamo intraprendendo questo tour per l'Italia a due voci ma lo dimostrano anche le tante certificazioni che le varie mandanti stanno cercando di far ottenere ai consulenti finanziari proprio in ambito patrimoniale dimostra come quelle che oggi possono essere considerate a pieno titolo delle competenze accessorie rispetto all'attività professionale dei consulenti finanziari in realtà sono anche quelle che più di altre potranno fare veramente la differenza la differenza nel futuro e quindi la buona notizia nonostante ci sia questa avversione al cambiamento da parte dei consulenti finanziari è proprio quella che oggi il consulente finanziario interpreta un modello di business che di fatto precede e anticipa largamente quello che sarà il modello di business per esempio delle banche tradizionali di domani attenzione però perché avere un vantaggio competitivo ovvero anticipare un modello di business non vuol dire rimanere con le mani in mano perché le banche da questo punto di vista è vero che sono pachidermiche ma è vero anche che poi una volta che hanno istituito i processi poi arrivano e quindi quel vantaggio competitivo che oggi il consulente finanziario ha rischia di non avercelo più nel futuro e quando arrivano con la porta aerei e il consulente finanziario che è una piccola barchetta è un gomboncino è chiaro che farà molta fatica poi a rimanere sul mercato se nel frattempo non vuole continuare a mantenere questo vantaggio competitivo la situazione di oggi è indubbiamente se dovessi usare una metafora è come la situazione che vive costantemente un surfista voi avete presente i surfisti è fantastico vederli cavalcare l'onda ma per chi appunto fa il surf ti racconterà che prima di essere riuscito a poter dominare l'onda stando su una tavola che è scivolosa ed instabile che metaforicamente è esattamente ciò che noi stiamo vivendo oggi è un cambiamento continuo ti pare di essere arrivato a un certo livello e subito se non stai in guardia rischi di scivolare e quindi di cadere nuovamente in mare di essere travolto hai onde irregolari non è che hai onde irregolari sono di altezza diversa di potenza diversa di frequenza diversa ebbene nel momento in cui hai bisogno di cavalcarla quest'onda è chiaro che lo devi fare attraverso un metodo il metodo però presuppone una grande volontà e soprattutto anche una grande determinazione nel fare e nel fare chiaramente con costanza e quindi questo è probabilmente ciò che determina è la differenza tra un consulente imprenditore di successo e un consulente normale e probabilmente la determinazione e la forte volontà e l'essere volitivi nel cercare comunque di affrontare l'onda non di farsi travolgere di andarle incontro e proprio di sfruttare anche quella che è la sua forza avversa per poter poi salire su questa benedetta tavola da surf e chiaramente poi godere di un'esperienza che immagino sia straordinaria allora una cosa importante per poter fare questo è necessario prima di tutto essere consapevoli e quindi uscire anche da un'altra resistenza al cambiamento che non si è dei liberi professionisti ma che si è degli imprenditori di questo io ne sono non certo ne sono certissimo non importa se tu sia un consulente finanziario legato alla mandante o sia un consulente finanziario indipendente perché so che tra l'altro sono anche molti i consulenti finanziari indipendenti che ascoltano questo podcast l'importanza è capire che tu fai l'imprenditore e facendo l'imprenditore devi essere anche consapevole che sei in una situazione molto instabile te lo posso garantire perché da tre anni a questa parte lo faccio e la situazione è costantemente instabile ma che è proprio grazie a questa instabilità e a questa spasmodica ricerca di un equilibrio in questa instabilità che di fatto sei in grado di poter affrontare ciò che arriva e aumentando io dico sempre quella che è una tua visione periferica che ti consente di vedere delle cose che prima non vedevi proprio perché sapevi che tutto sommato forse non avevi questa consapevolezza di essere imprenditore eri un libero professionista che talvolta aveva come retropensiero lo svolgere un'attività più da parasubordinato perché in qualche modo questa cosa del consulente finanziario che riceve per esempio tutti i mesi le provvigioni ma le riceve esattamente nello stesso giorno in cui vengono pagati anche gli stipendi per esempio della società mandante te la dice lunga su come ad esempio questa abitudine nell'acquisire queste provvigioni nello stesso giorno tutti i mesi ti porti di fatto da un lato a una certa sicurezza nell'agire dall'altro lato però anche a interiorizzare e ad acquisire questa abitudine che ti dà indubbiamente stabilità ma che alla fine ti porta molto spesso magari a non spingere o a non avere la capacità di affrontare quelle che sono appunto le sfide e le novità allora quando parliamo di imprenditore è evidente che parliamo anche di impresa e quando parliamo di impresa dobbiamo innanzitutto pensare che ed è questa una cosa che ho acquisito durante il mio MBA e una delle cose che più mi ha colpito sempre nella lezione nel corso nel percorso di studi legato alla strategia aziendale il professore ci diceva sempre che la proprietà di un'azienda non è mai dell'imprenditore o meglio lo è nel momento in cui l'imprenditore la fonda dopodiché che cosa succede una volta che tu hai acquisito il primo cliente hai un primo fornitore avrai bisogno di una banca pagherai le tasse avrai dei dipendenti ebbene l'azienda in quel momento diventa informalmente perché formalmente continua sempre a rimanere dell'imprenditore ma diventa informalmente di proprietà dei cosiddetti stakeholder cioè dei portatori di interessi e questa è una un salto importante a livello mentale che credo che il consulente finanziario imprenditore debba fare cioè devi sempre essere consapevole del fatto che intorno a te ruotano una serie di portatori di interesse ai quali tu devi rendere conto che ti piaccia o meno si tu dirai caspita ma cosa vuol dire mi sto facendo il mazzo mi scuseranno ovviamente gli ascoltatori se utilizzo questo questo gergo questa modalità gergale per cosa per dover rendere conto a tutti questi portatori di interessi beh sì ti dico già di sì vediamo un attimo quali sono tra l'altro diciamo gli stakeholder i portatori di interesse principali ai quali rendere conto il primo in assoluto a mio modo di vedere è la famiglia che tu sia sposato che tu abbia un nucleo familiare o che tu sia single non importa anche se sei single comunque devi rendere conto comunque a te stesso persona fisica ecco mettiamola così se poi hai un nucleo familiare dovrai rendere conto anche alla tua famiglia in termini di obblighi per esempio in termini di sostentamento poi ovviamente ci sono altri datori di lavoro altri portatori di interesse che secondo me sono importanti che sono i clienti non dobbiamo mai dimenticarlo grazie a loro al fatto che spendono tutti i santi giorni i loro i loro denari attraverso le fee con te tra l'altro mi piace da un po' di tempo a questa parte immaginare che la tua consulenza sia una consulenza su abbonamento prova a pensarci oggi tu paghi sky per vedere delle cose oggi un tuo cliente paga una fee quotidianamente o su frazione giornaliera ma ti paga una fee mensile che ti consente o annuale che consente lui di ottenere consulenza da te quindi di fatto tu ti occupi di erogare consulenza su abbonamento ebbene anche i clienti sono dei portatori di interesse importantissimi poi c'è la mandante se sei legato a una società mandante non dimentichiamoci che la società mandante ti consente per esempio una serie di cose che diversamente chi si trova in una situazione di consulenza indipendente per esempio non ha non voglio entrare nel merito sul conflitto di interessi o meno perché tra l'altro è sempre una materia molto come ti posso dire delicata dove e questo è un mio rammarico i consulenti indipendenti la trattano in maniera un po' troppo manichea questo lo esprimo in realtà penso che il bene e il male ci siano da ambedue le parti non è pensabile che nel mondo della consulenza legata a mandanti solo a mandanti sia il brutto o bel zebu e dall'altra parte ci sia il paradiso credo che come sempre il mondo è bello perché ci sono infinite sfumature di grigio ebbene se noi andassimo ad analizzare un poco quelle che possono essere le caratteristiche e quanto ci viene richiesto dai singoli stakeholder ne avremmo veramente di che ristrutturare la nostra impresa e quindi uscire dalla nostra area di confort e conseguentemente andare incontro alle avversità ma facendo in modo che le avversità possano rafforzarci o addirittura darci la forza per poter fare un salto ulteriore quindi un grande salto di paradigma ti dicevo prima il primo datore di lavoro a mio modo di vedere del consulente finanziario ma anche dell'imprenditore se ci pensi è proprio la famiglia la famiglia intesa come ovviamente come gli impegni economici che ho nei suoi confronti o nei confronti di me stesso ma ovviamente anche in termini di obiettivi che io intendo realizzare o far realizzare la mia famiglia e nel contempo intendo realizzare per me stesso e quindi una serie di domande che mi farei anche per cercare di identificare quali possono essere gli ostacoli e quindi cercare di superarli è per esempio che tipo di equilibrio sto tenendo tra vita personale e vita professionale perché è importante questa domanda perché se magari sta pendendo un po' più verso la vita professionale e volessi in qualche modo riequilibrarla verso la vita personale e so che magari dovrei cercare di lavorare un po' di meno oppure di lavorare più smart magari dovrei necessariamente introdurre nel mio modello di business ad esempio il fatto che per poter liberare delle ore da poter dedicare alla famiglia dovrei magari delegare alcune funzioni alcune attività per esempio a un assistente questo ci aiuta a capire che cosa che la famiglia è uno stakeholder la famiglia potrebbe aver bisogno di noi per poter dedicare del tempo alla famiglia ho bisogno di liberare tempo alla professione per poter liberare tempo diciamo per essere meno impegnato consentimelo sulla parte professionale è evidente che devo delegare per delegare ovviamente mi devo porre il problema di superare un ostacolo in questo caso il cambiamento nel fatto di interiorizzare che posso delegare buona parte delle cose secondo devo assumermi una responsabilità di poter cominciare ad avere un collaboratore quindi come vedi darsi delle risposte a certe domande vuol dire anche individuare delle soluzioni individuare delle soluzioni che spesso non rientrano nella nostra comfort zone e quindi ecco che ci troviamo a dover superare i limiti i confini appunto di questa zona di comfort altra cosa per esempio quale prezzo sono disposto a pagare per poter ottenere di più in futuro per esempio per me o per la mia famiglia oppure un'altra domanda che sarebbe opportuno fare proprio in virtù vedendo diciamo la nostra impresa dal punto di vista dello stakeholder famiglia quali sono gli obiettivi familiari e personali che l'attività imprenditoriale dovrebbe essere in grado di farmi realizzare non dimentichiamoci che un imprenditore ha sempre degli obiettivi tangibili ed intangibili tangibili potrebbero essere proprio degli obiettivi materiali comprare una casa in montagna un'automobile un viaggio eccetera intangibili come ti dicevo prima potrebbe essere veramente liberare del tempo liberare del tempo per poter magari stare di più con la famiglia e questo implica chiaramente delle scelte a livello organizzativo dal punto di vista dei clienti per esempio altro stakeholder importante credo che un cliente ciò che si aspetta di più da una qualsiasi azienda è avere un alto livello di servizio nello specifico i clienti dei consulenti finanziari ancora di più e quindi domande tipo qual è il modello di servizio che fanno i clienti e come per esempio i clienti vengono accolti come spieghiamo e con quali supporti comunichiamo le nostre soluzioni oppure quante volte per quanto tempo incontriamo i clienti oppure come comunichiamo la nostra proposta di valore come vedi sono tutte domande che ci aiutano a metterci nei panni dei nostri stakeholder ma che ci portano obbligatoriamente a fare delle scelte che vanno oltre la nostra area di comfort nel cercare appunto di continuare a mantenere livelli standard molto elevati con la clientela altra cosa altro stakeholder la società mandante che tipo di rapporto stiamo intrattenendo con la mandante di semplice fornitura di servizi o di partnership o di vera e propria collaborazione e soprattutto come possiamo condividere e realizzare gli obiettivi di crescita tu oggi sei un imprenditore la mandante potrebbe essere idealmente un tuo fornitore ma potremmo distinguere tra fornitori occasionali o partner in questo caso è un partner vediamo come possiamo metterci nella condizione di darci un rapporto che sia veramente win-win che sia di reciproca fiducia che consenta ad entrambi di poter crescere ebbene queste sono domande che poi hanno delle implicazioni importanti su come intendiamo interpretare la professione e nel momento in cui decidiamo di interpretare la professione in un determinato modo è chiaro che dobbiamo probabilmente apportare dei cambiamenti a ciò che abbiamo fatto sinora o come ci siamo comportati finora ed infine ultimo ma non ultimo lo stakeholder più importante che è tu tu sei il consulente e l'imprenditore di te stesso ricordati che tu sei di fatto l'azionista unico della tua società ma sei anche rappresenti il management della tua società e allora onestamente che tipo di giudizio daresti al management della tua azienda in questo caso a te stesso se tu fossi un azionista e partecipassi ad esempio all'assemblea degli azionisti della tua azienda saresti contento di sapere che il management non ha fatto un bilancio di previsione saresti contento che magari il management non ti sta comunicando per esempio che cosa ha intenzione di investire in marketing per il prossimo anno guarda che quello che ti sto dicendo è ciò che accade abitualmente tra consuliti finanziari non sanno quanto investiranno in marketing non pianificano le attività di marketing e questo è uno dei tanti esempi non sanno ad esempio dove saranno fa 3 o 5 anni se non un generico raddoppierò il portafoglio queste sono cose che immagina se tu partecipassi come azionista all'assemblea degli azionisti di una società quotata e ottenessi delle risposte così evasive dal management probabilmente la prima cosa che faresti sarebbe sicuramente quella di liberarti dell'azione in tuo possesso perché non ti fideresti di essere governato oppure della governance praticamente dell'azienda di cui tra l'altro possiedi un pezzo di proprietà altra cosa molto importante da consulente imprenditore è come intendi generare i margini e soprattutto far crescere costantemente il fatturato non dimentichiamoci che le aziende hanno una forte tensione ideale nella generazione costante di margini la battaglia non è sulle quote di mercato ma è sulla marginalità e grazie agli utili che poi hai la possibilità di reinvestire nell'azienda e di crescere quindi quando parliamo di queste cose parliamo di stakeholder ci troviamo di fatto a dover far fronte alle avversità e qui vado a terminare anche questa puntata del podcast perché a questo punto c'è questa avversione alle novità da parte di consulenti io mi sono dato una serie di risposte dove principalmente c'è un tema il tema è legato alla preoccupazione la preoccupazione una volta l'essi su un post su facebook e la porto sempre con me questa frase è di fatto quell'attività che sorriscalda il tuo cervello che non fa assolutamente cambiare nulla all'esterno perché comunque le persone non possono sapere i tuoi pensieri e tra l'altro il mondo continua ad andare avanti la vita delle persone con cui interagisci continua ad andare avanti quindi il tema del preoccuparsi non serve a nulla invece la cosa più importante è cominciare ad occuparsi delle cose perché occuparsi delle cose genera sicuramente azioni e occuparsi delle cose genera anche quelle emozioni che ti portano all'azione quindi come cercare di affrontare l'avversione di novità ovviamente prima di tutto è avere la consapevolezza che è necessario uscire dalla propria comfort zone non smetterò mai di dirlo uscire dalla comfort zone vuol dire sostanzialmente cominciare ad occuparsi delle cose cominciare ad agire lo dico con estrema sincerità cominciare anche a prendersi dei piccoli rischi ma anche delle piccole soddisfazioni molto spesso suggerisco ai consulenti di cominciare a partire piccolo pensare in grande ma partire piccolo perché partire piccolo ottenere un piccolo risultato è la benzina più bella che noi possiamo introdurre nel serbatoio della nostra auto che è appunto il tema della motivazione per poter cominciare poi a carburare e pian pianino a essere consapevoli che siamo in grado di fare delle cose nuove di poterle affrontare e nel contempo anche di poter vincere queste piccole sfide e vincere delle piccole sfide quotidianamente ci aiuta ovviamente a migliorare molto la nostra autostima e ad agire di conseguenza in maniera sempre più volitiva questo ci aiuta anche a non pensare al fatto di non essere all'altezza quindi cominceremo subito a capire che le cose che stiamo facendo caspita ma pensavo di non riuscirci invece ci sto riuscendo e questa è una cosa importante veramente importante altra cosa che per esempio porta le persone a non agire è il tema della paura del rifiuto ma attenzione tutte le storie imprenditoriali di successo sono costellate di errori anche di fallimenti ma dei quali poi c'è stata la grande capacità da parte dell'imprenditore di riconoscere gli errori ma soprattutto di rialzarsi subito in piedi e di ripartire questa è la storia di tantissime persone che hanno avuto la capacità proprio di sbagliare e dobbiamo santificare lo sbaglio anziché demonizzarlo invece noi veniamo da una cultura che fin dalla scuola ci porta a pensare allo sbaglio come un qualcosa di negativo sbagliare è importante perché è dagli sbagli che poi abbiamo probabilmente ricavato le migliori esperienze della vita e quindi è attraverso queste cose superare questi questi ostacoli che cominceremo veramente a fare in modo che l'avversione alle novità sia assolutamente un qualcosa che non riguardi più il settore della consulenza finanziaria ma riguardi altri settori in modo tale che il settore della consulenza finanziaria possa finalmente e veramente diventare un settore con la S maiuscola dove il consulente finanziario possa essere annoverato alla stregua di altre libere professioni che oggi godono comunque di ampia riconoscibilità e reputazione sul mercato da quello che hai appreso durante questa puntata dell'imprendi promotore podcast il tema dell'avversione alle novità è probabilmente forse l'ostacolo più importante che i consulenti finanziari devono imparare a rimuovere una volta che il consulente finanziario avrà avuto la capacità di imboccare la strada del cambiamento bene sono convinto che le opportunità da accogliere saranno moltissime che l'onda da cavalcare sarà più alta sarà più sarà importante affrontarla perché poi appunto l'energia che si sprigionerà ci consentirà veramente di poterla cavalcare Biffid 2 è una straordinaria occasione continuo a dirlo se però interpretata correttamente dal consulente un'occasione di poter finalmente arrivare a dare del valore alla propria attività di consulenza non dobbiamo avere paura di ciò che il cliente leggerà nell'esatto conto verità quello è fondamentalmente in termini economici il valore che tu stai già esprimendo attraverso l'attività di consulenza più ci rifletto e più penso che infatti un cliente non possa fare a meno di un consulente finanziario razionalmente per il livello di servizio che un cliente ottiene da un consulente finanziario non c'è un motivo razionale affinché il cliente non debba affidarsi al consulente finanziario lo deve fare eppure il settore non cresce come dovrebbe credo che la ragione più profonda sia proprio da ricercarsi in una sorta di deposizione delle armi consentimelo del settore che ha raggiunto un certo benessere si è un po' imborghesito e dove si preferisce vivacchiare o anche vivere bene perché alcuni hanno incontrato sicuramente grande successo grande prosperità economica ma dove alla fine si tende un po' a essere troppo concentrati sul dissodare arare il campo ottenere la massima resa dal campo avendo dimenticato invece che ogni tanto bisogna anche andare a cacciare per mantenere tonici i muscoli perché la MIFI 2 specialmente con il tema della consulenza e della consulenza parcella riporterà drammaticamente gli agricoltori consulenti consentimi questa metafora a dover prendere in mano nuovamente arco e frecce ed inoltrarsi nel bosco perché vendere la consulenza non è vendere un asset allocation è un qualcosa di completamente diverso il mercato però ci sta anche insegnando che cosa quotidianamente che non c'è azienda che non sia condannata a crescere e questo vale anche e soprattutto per le imprese dei consulenti finanziari che poi ci si riesca o meno questo è un altro paio di maniche ma nel 99% dei casi ciò dipende proprio dall'imprenditore che è a capo di questa impresa e che ovviamente deve tenere conto anche delle richieste di tutti i portatori di interesse prima di concludere questo episodio però voglio invitarti quest'oggi a far visita al sito dell'imprenditpromotore potrai andarci andando su www.imprenditpromotore.it il sito è la casa dei tanti contenuti che vado producendo tutte le settimane è la casa di questo podcast è la casa dei video è la casa di tutti i contenuti gli articoli per esempio che scrivo settimanalmente e che ti metto a disposizione appunto per poter far crescere la tua attività allora per oggi è tutto io come sempre ti ringrazio moltissimo per essere arrivato fino al termine di questa trasmissione io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria ciao alla prossima puntata hai ascoltato l'imprendi promotore strategie per far crescere il tuo business con Enrico Florentino per informazioni domande suggerimenti scrivi a info